Musica Cari amici di Fano TV, bentrovati. Questo è il primo di due approfondimenti in cui parleremo dell'appuntamento che riguarda la nostra città. L'appuntamento per eccellenza, quello atteso, desiderato, proprio atteso in una maniera esponenziale da tutti i fanesi ma anche da tutte le persone che verranno a trovarci da tutta la penisola. Sto parlando dell'appuntamento più antico ma anche più dolce della nostra città e quindi 5, 12, 19 febbraio ritorna il Carnevale di Fano. Diamo il benvenuto ai nostri ospiti, buonasera Maria Flora Giammarioli. Buonasera. E buonasera Saulo Salucci. Buonasera. Allora, si ritorna finalmente con il Carnevale in presenza, con il nuovo direttivo. Siamo pronti? Siamo nati pronti, assolutamente. Siamo prontissimi, siamo carichi. Questo nuovo direttivo che non si è insediato da molto tempo ma che in realtà ha subito preso piede e confidenza con quello che è la macchina del Carnevale, che è una grande macchina ma ci siamo dati dei ruoli. Essendo persone tutte molto motivate, siamo riusciti a ognuno ad occuparci di un aspetto del Carnevale e quindi alleggerire un po' tutti dalla grande mole che è il lavoro della preparazione del Carnevale. Bene, il nuovo direttivo ha lavorato anche ad un progetto che caratterizzerà questa edizione ma anche quelle future, vero Saul? Sì, la prima cosa che ci siamo resi conto una volta che ci siamo insediati è stato che si sentiva molto forte il senso di responsabilità nei confronti di una manifestazione così importante in cui c'è una grande tradizione e quindi che cosa fare di fronte a questa enorme manifestazione. Allora abbiamo riflettuto e la prima cosa che ci è venuto in mente è stato quello di far sì che il Carnevale possa essere un momento di gioia e un momento di fiducia per il futuro. Anche perché oggi, venendo da una crisi dopo l'altra, pochissimi parlano anche di futuro e di speranza. E allora noi vorremmo che il Carnevale fosse proprio un momento di gioia per tutta la cittadinanza. Al tempo stesso però ci siamo resi conto che il Carnevale di Fano è il più antico d'Italia e uno dei più antichi d'Europa e quindi c'è una sorta di timeline allargata dal più antico al più futuristico e questo ci ha fatto venire in mente che si tratta di un grande viaggio. E così come questa trasmissione il tema di questi prossimi quattro anni sarà in viaggio col Voulon. Quindi vedremo, grazie al Carnevale, che altri non è che il Voulon, come questa manifestazione nei secoli abbia potuto dare quel momento di gioia alla collettività. Quest'anno la prima stagione di questa sorta di serie si intitola Spazio all'arte, perché ci siamo resi conto che il miglior modo per parlare del Carnevale è dell'innovazione e farlo attraverso l'arte. Devo dire che da subito i carristi che sono i protagonisti, gli artisti protagonisti di questa manifestazione ci hanno seguito, abbiamo poco tempo, noi gli abbiamo dato un tema anche abbastanza complesso, spazio e arte, coniugare l'arte e lo spazio, e hanno fatto davvero dei capolavori intanto come concept. E poi stiamo vedendo che verranno davvero delle opere monumentali bellissime. Tra l'altro il progetto Maria Flora è stato presentato proprio a Roma in Senato. Sì, abbiamo avuto questa grande opportunità, abbiamo presentato il Carnevale in Senato, proprio martedì, è stata una bellissima vetrina, una bellissima esperienza, tutta la stampa parlamentare è presente, tanti parlamentari di tutti gli schieramenti, proprio a dimostrazione che il Carnevale non ha partito, il Carnevale è trasversale ed è giusto che sia così. E poi è stato un momento molto bello che probabilmente avrete potuto vedere nella pagina Facebook del Carnevale, ci hanno invitato in Senato proprio durante una seduta e ad un certo momento il Presidente del Senato ha fermato la discussione portandoci un saluto e tutti i senatori in piedi ad applaudire, ma non noi quanto il Carnevale di Fano, cioè il Carnevale tra i più antichi d'Italia. Bene, in questa fase di presentazione, quindi in questa fase preliminare, è molto interessante il clima d'attesa che si è creato, anche con la famosa cena grassa, perché il Carnevale fa rimanche con sociale. Sì, diciamo che praticamente il Carnevale è già iniziato, perché il 17 gennaio è Sant'Antonio Abate ed è una data in cui fin dall'antichità si faceva iniziare un periodo in cui ci si permetteva un po' più di godimento. Lo faremo con le feste, ma lo si faceva già col mangiare, tutto terminerà il martedì grasso, giorno, che prelude il periodo di Quaresima. Quindi quest'anno il Carnevale di Fano ha organizzato questa cena. Devo dare merito, dobbiamo dare merito al Vice Presidente della Carnevalesca, Stefano Mirisola, di essere stato un ottimo organizzatore di questa cena. Era una cena che riguardava il sociale. Il Carnevale ha sempre un occhio per il sociale, perché il Carnevale parla a tutti, è una manifestazione popolare e quindi è giusto anche occuparsi di sociale. Questa cena era per, lo leggo così non sbaglio, per l'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti nella sezione di Pesaro Urbino, a cucinare tanti cuochi capeggiati da uno chef molto importante che è Antonio Ciotola, che purtroppo è cieco. E questa serata, devo dire, è stata bellissima. Abbiamo respirato intanto l'emozione nel fare qualcosa in beneficenza, ma poi c'è stata la gioia di ripartire. Devo dire, è buonissimo quello che abbiamo mangiato e abbiamo potuto assaggiare anche la pasta montagna, che poi è un altro degli aspetti che racconteremo di questo Carnevale. Abbiamo azzerato praticamente i costi, l'unico costo era quello della materia prima, quindi del cibo, i cuochi hanno lavorato gratuitamente, il personale del Mediterraneo altrettanto e a servire le portate erano proprio i consiglieri dell'ente carnevalesca. Quindi azzerando i costi abbiamo potuto donare più di 3.000 euro per una giusta causa, con circa 200 persone paganti. E continua anche l'esperienza dei manifesti d'autore quest'anno con Alessandro Baronciani. Sì, abbiamo pensato ad Alessandro, prima di tutto perché è un nostro vicino di casa, è pesarese, ma lui dice che ama molto Fano e soprattutto ama molto il Carnevale perché il suo papà suonava nella musica arabita. Quindi quando l'abbiamo contattato è stato molto contento di poter dare il suo contributo al Carnevale di Fano e direi che ha realizzato un manifesto veramente azzeccatissimo perché si vede la mano dell'autore, si vede che è la mano di Baronciani con una gioia, con un'allegria che è proprio del Carnevale. Importante anche la campagna promozionale attraverso dei canali nazionali assolutamente importanti, quindi sono state stritte delle nuove collaborazioni. Sì, siamo molto orgogliosi di avere delle nuove collaborazioni nazionali a partire dall'Agenzia Spaziale e questa è una cosa che vogliamo raccontare, di cui siamo particolarmente orgogliosi perché ovviamente è un riferimento per lo spazio, quindi per la scienza e assolutamente centrato con il nostro tema per la voglia di guardare al futuro e questa è una collaborazione che parte quest'anno. Va dato merito anche qui a tutto lo staff ma in particolar modo alla Presidente Gian Marioli. È una collaborazione che poi si tradurrà in alcuni eventi tra i quali mi piace ricordare la conversazione che si terrà tra arte e scienza, tra l'artista Michelangelo Pistoletto e l'astronauta Paolo Nespoli. Ma poi avremo anche l'astronauta più in voga del momento che è Samantha Cristoforetti che sarà l'oggetto del carro che aprirà le spilate, un carro di seconda categoria, quello che viene definito Pupo e vedremo Samantha Cristoforetti che tenderà la propria mano al Padre Eterno, quindi andando di nuovo a porci delle domande tra filosofia e forse il nostro Dio. E poi l'altro aspetto molto importante è la collaborazione con la Repubblica di San Marino e infine una bella collaborazione con un emittente nazionale che è Sky e tra cui la trasmissione sportiva più seguita è Calcio Mercato l'originale e in questo spazio che viene seguito tanto perché il calcio è uno sport popolare e popolare è il carnevale, questa trasmissione come dicevo la più seguita poi viene data in tante repliche quindi gli spot sul carnevale di Fano sicuramente ci daranno una vetrina molto importante. Ospiteremo in questa puntata anche due dei carristi protagonisti, qui io direi quindi di introdurre un po' l'argomento, l'argomento carri quest'anno, quattro carri tutti nuovi. Sì, quattro carri tutti nuovi, ovviamente a tema dell'anno, i quattro carri sono uno dedicato ai Pink Floyd, un altro dedicato allo steampunk, uno dedicato alla pop art e l'altro dedicato alla poesia, alla poesia italiana, da Dante a Pasolini. Quattro carri molto affascinanti che sono in lavorazione, stanno quasi per concludere i maestri carristi lavori e quindi insomma siamo in trepidazione per vederli sul viale. Saulo? Sì, parliamo di alcuni dei carri perché poi vedrete ci sono anche dei carristi presenti, quelli che purtroppo non possono essere qui con noi oggi sono i rappresentanti del carro di Valeria Guerra che ha il titolo Come sarebbe stato il passato se il futuro fosse arrivato prima. Quindi parliamo comunque di una favola, quella di Cenerentola, quindi il sogno, i bambini li ritroviamo, poi è la favola più bella perché è la favola in cui il buono vince e in questa favola vediamo che la carrozza, cioè la zucca che viene trasformata in carrozza, è costruita con dei pezzi metallici di scarto che si muovono a vapore, questa sarebbe l'idea, perché appunto, come ha detto Maria Flora, lo steampunk è il genere a cui si ispira questo carro, quindi il futuro riguardando il passato. E poi la sfilata, credo, terminerà con il carro di Giovanni Sorzinelli, Giox e Mauro Chiappa, prima ovviamente di quello della musica arabita, che si intitola Pacevolissimevolmente, in cui Dante quest'anno non avrà il rametto d'olivo, ma avrà proprio in mano una colomba che è il simbolo della pace e della libertà e attorno a lui tantissimi poeti, proprio per simboleggiare un'altra cosa che il Carnevale vuole gridare, perché il Carnevale vuole anche dare dei messaggi, che è il messaggio della pace. Spazio all'arte è il tema, dicevamo, del Carnevale di quest'anno e adesso la parola passa inevitabilmente ai maestri carristi. Benvenuto a Matteo Angherà e benvenuto a Luca Vassilic. Buonasera. Buonasera. Allora, spazio all'arte. Vogliamo sapere di tutto, ovviamente, quello che si può sapere, qualche gradita anticipazione, innanzitutto, sui nomi di battesimo dei vostri carri e poi, insomma, qualche espediente. Allora, il mio si chiama The Dark Side. Sì. Spazio all'arte, mi sono concentrato sull'arte musicale. Sì. Ho realizzato, sto realizzando un carro dedicato a Dark Side of the Moon dei Pink Floyd, visto che quest'anno ricorre il cinquantesimo anniversario dell'uscita. Come procedono i lavori? Eh, i lavori procedono abbastanza bene ormai. Siamo nelle ultime rifiniture. Quest'anno va tutto bene. Siamo nei tempi. E in quanto tempo è stata partorita l'idea? L'idea, in realtà, quest'anno abbastanza velocemente, perché non abbiamo avuto tantissimo tempo per studiare ai nostri bozzetti, però ormai stavamo sui tre mesi di lavoro, diciamo. Bene. Quindi siamo quasi addirittura d'arrivo. Siamo soddisfatti? Sì, sì. Bisogna sempre vederlo sul viale, perché mai dirlo prima dal capannone, l'effetto bisogna sempre vedere sul viale, in movimento, tutto musica, balli. Solo lì ti rendi conto se è veramente venuto bene. Quindi da un'altra prospettiva. Sì, è la prospettiva del carnevale. Ok. Luca, il tuo caro, invece? Il mio caro si chiama Pop Connection. È un viaggio spazio-temporale su quello che è la finestra pop, quindi ho voluto prendere spunto da quello che è una mia, poi, diciamo, passione per l'arte in generale, ma ecco, con alcune, ecco, contaminazioni pop, che tra l'altro vengono fuori anche in miei opere, quadri e cose varie. Pop Connection cos'è? Non è altro che un viaggio spazio-temporale in cui il padre della pop art, appunto Andy Warhol, torna ai giorni d'oggi, si crea questo viaggio, ecco, particolare, e rivive con un visore 3D, quindi con una digitalizzazione del tutto, le maggiori opere pop, le icone pop dell'epoca, appunto, del ventennio 60-80, da lui in primis create e dai suoi, insomma, più significativi colleghi, diciamo, da Keith Haring a Roy Lichtenstein, ci sarà l'inventore del famoso Smile, il, ci sarà un'introduzione di Bansky, un Mondrian gigante che farà, insomma, ci saranno diverse, ecco, sorprese pop all'interno di tutta questa opera che vuole essere, appunto, un omaggio, prima di tutto, all'arte pop. E poi, ecco, una mostra a cielo aperto di queste opere pop, tutte rigorosamente realizzate a mano, riprodotte a mano, con, diciamo, qualche tocco anche di personalizzazione, di attualizzazione, ecco, dei tempi. Spazio all'arte sicuramente lascia un campo aperto molto vasto, quindi anche la scelta personale non deve essere stata proprio semplice, no? Per partorire proprio un'idea. No, soprattutto, ecco, come in questo caso di quest'anno, che le tempistiche sono state molto ridotte, quindi abbiamo dovuto anche, o almeno per quanto mi riguarda, riaprire un attimo il cassetto dei sogni e andare a cercare in idee e soggetti che magari potevano aver avuto già spunti tempi passati. Appunto, quest'anno, con la tematizzazione, appunto, sull'arte, potevano essere la buona occasione per, appunto, rimetterli in opera e finalmente fargli vedere la luce. Poi la vostra abilità, credo, stia anche in questo, cioè nel riuscire a partorire un'idea e poi realizzarla, ma poi concettualmente riuscire ad esprimere un pensiero, no? In questo caso si parla di musica, nel tuo caso, appunto, si parla di pop art, cioè realizzarla e simboleggiare un contenuto non è semplice. Quindi la bravura dell'artista, in questo caso del carrista, sta anche in questo. Realizziamo una nostra visione, un nostro sogno. Intanto, si parte sempre da lì, da un nostro sogno. Quest'anno siamo andati a ripescare nelle nostre altre passioni extra carnevale. Io la musica, i Pink Floyd sono un fan a Caneto, lui appunto con la pop art. E quindi, sì, siamo partiti dai nostri sogni, dalle nostre passioni e gli abbiamo dato una forma. Tra l'altro, i Pink Floyd saranno anche protagonisti di un concerto, ci sarà un momento musicale speciale di cui parleremo poi nella prossima puntata. A chi lo dedichiamo, il tuo carro? Ma lo dedichiamo alla musica, secondo me. A musica, a chi mi ha fatto scoprire la musica, a questo filone di musica. quindi la mia famiglia. Ovviamente io ancora non ero nato quando ero uscito al disco, quindi mi è stato tramandato, diciamo. Quindi è un carro dedicato a tutti quelli che mi hanno fatto scoprire questo filone di musica. Luca? Io voglio dedicarla al carnevale perché credo sia giusto. Dopo due anni vissuti come abbiamo vissuto, ritornare a fare il carnevale nella versione tradizionale come tutti la conoscevamo, non è cosa banale né scontata. Abbiamo vissuto brutti momenti noi, diciamo, dal punto di vista ecco, come costruttori, come autori, perché non non vedevamo più ecco un punto di riferimento verso il quale andare. si vedeva tutto molto fuscato, tant'è che ci siamo detti ce la faremo a ripartire tutto quanto. Essere ripartiti, avere messo in piedi tutta una macchina insomma organizzativa di questo genere, essere tornati a fare carri, quindi riportare sul viale uno spettacolo a tutto tondo, io credo non sia cosa da poco e io quindi questo caro pop lo dedico appunto al carnevale che è del popolo, per il popolo e appunto come la pop art, tra l'altro, che è una corrente nata appunto per la vendita alla massa, quindi io credo che cosa migliore non ci sia. Leggo molta emozione e nello stesso tempo anche molta adrenalina nel ritorno a questa normalità e nel rimettersi in gioco. Noi non vediamo l'ora, sinceramente, non vediamo l'ora anche perché i tempi sono ormai stretti, siamo agli sgoccioli, stiamo finendo le ultime cose, però diciamo che la soddisfazione c'è per quello che siamo riusciti a fare in brevissimo tempo, quindi siamo ancora più orgogliosi di quello che abbiamo fatto perché non è una cosa da tutti. Poi c'è la voglia di riassaporare quelle emozioni che ci sono mancate in questi due anni, l'emozione della sfilata, di vedere le nostre opere sfilare, l'emozione di vedere il pubblico come reagisce ai nostri carri, quelle sono cose che ci sono mancate e non vediamo l'ora di riprovare. volevo ringraziare pubblicamente le squadre di collaboratori che abbiamo ognuno per caro perché il caro comunque è un lavoro di squadra, un lavoro d'equip senza le quali con vari di collaboratori non vado a nessuna parte, posso avere un bellissimo progetto, una bellissima opera in mente o sulla carta, ma la squadra è fondamentale, io quest'anno devo ringraziare appunto una squadra che mi ha dato veramente a Manforte ed è grazie anche a loro se l'opera verrà per come deve essere insomma e quindi le voglio ringraziare pubblicamente perché è giusto così. Bene, grazie ragazzi del vostro contributo e noi a questo punto non vediamo l'ora di vedere i vostri carri. Grazie a voi e viva il Carnevale e chi lo fa? La voglia di prendere parte al Carnevale è tanta quindi necessariamente dobbiamo parlare dei biglietti come partecipare? Sì, partecipare al Carnevale è molto semplice quest'anno è tutto online ci siamo appunto siamo andati verso il futuro ed era giusto così quindi tesseramento online e attraverso la tessera si apre una miriade di agevolazioni per tutti coloro che si tessereranno all'ente carnevalesca tra cui entrare al Carnevale con solamente un euro oppure poter fare dei biglietti singoli normali come si fanno per i concerti sempre sul sito del Carnevale su live ticket e quindi insomma vedere tutto tutto da lì questa è stata una scelta anche ecologica e quindi spingiamo questo tipo di bigliettazione proprio per anche agevolare i lavori nelle casse per evitare file per evitare che il pubblico si trovi magari a dover fare file troppo lunghe quindi comperate i biglietti online tesseratevi online tutto sarà più semplice quel giorno solo divertimento ricordiamo allora anche le date e naturalmente l'invito fallo tuo ai nostri telespettatori bene vi invito al Carnevale di Fano 2023 il weekend del 5 12 e 19 febbraio non mancate viva il Carnevale e allora grazie ai nostri ospiti in studio grazie a Riccardo Sora in regia e a tutti voi dell'attenzione arrivederci